facciamo la cagliata per fare il caciocavallo ho messo 20 litri di latte di mucca in una pentola e la faccio riscaldare facciamo riscaldare il latte fino a raggiungere la temperatura 35 40 gradi abbiamo raggiunto i 37 gradi spegniamo il fuoco mettiamo un litro di siero due cucchiai di caglio mescoliamo chiudiamo con il coperchio ed aspettiamo un circa 20 minuti trascorsi i 20 minuti andiamo a tagliare la cagliata a questo punto lavoriamo a compattezza togliamo il siero e continuiamo a premere l'importante è che prenda la sua compattezza e che il siero vada via tutto facciamo riscaldare il siero rimanente ci servirà per coprire la cagliata copriamo la cagliata con il siero copriamo con un nostro finaccio e lasciamo riposare per circa due ore mettiamo la cagliata su un tavoliere di legno tagliamo in quattro e facciamola scolare via la cagliata e Grazie a tutti.